buongiorno inizia oggi la santa novena di preparazione al natale il vangelo che ci propone la liturgia è preso dal capitolo 5 di giovanni versetti dal 33 al 36 ed è ancora il battista l'oggetto del comunicare di gesù che si rivolge ai giudei e dice nel suo predecessore che egli ha dato testimonianza alla verità e la verità è gesù stesso dunque da giovanni il battista gesù ha ricevuto una testimonianza che significa un'attestazione della propria venuta dell'arrivo della messia e signore e tuttavia gesù sottolinea che la testimonianza di giovanni non è la più importante venne un'altra superiore a questa che la testimonianza delle opere che il padre ha dato da compiere al figlio le opere sono la testimonianza più autentica e ineccepibile e che cosa significa tutto questo significa che a volte possiamo pensare che per credere in gesù ci sia bisogno che qualcuno ci dica prima guarda che ci si può affidare guarda che è proprio lui questo in fondo dovrebbe aver fatto giovanni il battista pur anche lui con le sue fatiche le sue domande il battista indica gesù ai suoi discepoli e dice loro è lui che dovete seguire insomma come quasi una assicurazione previa all'andare sui passi del maestro e signore ma la vera testimonianza che gesù ci dà e che egli compie sempre le opere del padre ininterrottamente e che non c'è bisogno né di conferma né di autorizzazione perché gesù compie le opere del padre detto in altri termini attraverso gesù dio padre continuamente agisce e agisce secondo la logica della misericordia la testimonianza che le opere danno gesù è quella della totale gratuità dell'infinita misericordia e del inesauribile desiderio di salvezza insomma anche se nessuno puntasse il dito su gesù per dire che egli è il messia anche se nessuno paradossalmente accogliesse l'azione delle opere che gesù compie egli continuerebbe a farle perché sono le opere di dio di dio padre e dio padre è amore e non può che continuare ad amare dio non aspetta l'autorizzazione di nessuno per amare dio non aspetta di avere conferme o testimonianze previe come si usa fare nell'ambito della scienza per amare e operare nell'amore dio è amore e continua ad amare ed è questa l'opera della salvezza chi allora vuole avere la certezza che gesù è il figlio di dio è veramente rinviato e salvatore è chiamato a fidarsi e mettersi sotto l'ombrello della misericordia che agisce attraverso le opere di gesù le quali continuano oggi nell'azione misteriosa dello spirito santo dentro la chiesa e in ogni angolo del mondo dove vive la carità buona giornata